La Triestina ha chiuso il proprio campionato con una sconfitta esterna, perdendo l'Euganio di Padova contro Bianco Scudatti. Il risultato finale di 3-2 descrive di per sé una partita che per almeno 5 volte ha fatto alzare dai seggiolini i tifosi presenti allo stadio, non sempre della stessa squadra, simbolo di una partita giocata a buon ritmo. Ma nonostante sia la Triestina che al Padova il risultato finale non avrebbe influito sulla posizione in classifica, i Rosso Labardati hanno perso l'occasione per diventare la miglior quarta dei tre gironi della Serie C, formazione che ha il vantaggio di accedere direttamente alla seconda fase. La partita di ieri sul fronte al Labardato ha fornito alcune buone indicazioni soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento dimostrato, al netto però di alcune disattenzioni specie dai calci piazzati pagati a caro prezzo. Anche il Padova, va detto, ha subito un gol da svarione difensivo. La formazione scelta da Bordini è stata dettata da alcune assenze per infortuni o per la presenza di alcuni diffidati. Minesso e Vertainen in attacco hanno ben figurato con il centravanti finlandese a segno per la terza gara consecutiva. L'Escano, Redan, Durso e la Zrach e Correa si sono accomodati in panchina con i primi due entrati a partita in corso, apportando, è il caso di Redan, un prezioso contributo. Ora testa i play-off con i Giuliani che da quarti in classifica saltano la prima sfida per giocare contro la vincente fra Gianna, Erminio e Provercelli. È noto come il cammino dei play-off sia molto complicato per partite ravvicinate e gare e eliminazione diretta nella prima fase e da andate e ritorno a partire dal turno nazionale. Ecco perché arrivare all'appuntamento degli spareggi con l'organico e buona forma sia fisica che mentale rappresenti una necessità per ogni club. Mister Bordini dal punto di vista tattico sembra aver trovato il giusto equilibrio con la difesa 3, ieri inedita con Ciofani, Rizzo e Anzolin, ma presto nuovamente arricchita dal rientro di Struna. Qualche perplessità invece per Malomo ha ciaccato. Fra centrocampo, corsie laterali e attacco infine il mister potrà contare su tutti gli elementi a sua disposizione.